Viva Borja, viva Genoa! Ci stiamo allenando tutti con massima determinazione. Abbiamo una gran voglia di ripartire. Quest'anno c'è anche il derby, quindi ci carica ancora di più. Io volevo ringraziare il sindaco, l'amministrazione, la società sportiva bormiense e tutta la gente di Bormio per averci permesso fino ad ora di fare un ritiro ideale. Quando si può lavorare con tranquillità, quando le strutture sono all'altezza della situazione, evidentemente è il meglio che può cercare una squadra di calcio. Ma al di là di questo, io vi ringrazio anche per l'ospitalità che avete dimostrato oltre che nei riguardi della squadra, nei riguardi della nostra gente. avete dimostrato di essere una cittadina accogliente, discreta e di questo noi ve ne siamo grati. Bellissimo connubio, no? Bellissimo connubio e direi che in questi giorni Bormio sta aggiungendo un qualcosa di grande al suo Gianrico Palmares, che è un nuovo titolo ed è la vera ospite per la preparazione estiva, una squadra tanto blasonata qual è il Genoa Calcio. Di questo si è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare perché un'idea che era embrionale nei mesi scorsi si è potuta concretizzare un ringraziamento quindi ai dirigenti del Genoa ma anche ai dirigenti dell'Unione Sportiva Bormiese che tanto si sono prodigati perché quest'idea, come dicevo, potesse realizzarsi. Lasciamoli andare i palloncini, lasciamoli andare, lasciamoli andare, lasciamoli andare! Eccoli! Vai come il Genoa! I palloncini ci accompagnano perché il mondo è fatto di nostro prodotto.